Ma vedi il tuo soretto Ma vedi il tuo soretto Senti già il rumore Senti, sta rifattando tutta, senti E qui è il rumore di merda E invece è il tuo di cacca E che rumore di merda fa? Il tuo rumore di cacca Questo è un classico Devi capire che tu hai speso 600 euro E non è che la metà Eheheheh O caldo con quel che fa? O caldo con quel che fa? O caldo è il tuo grello E io penso a che non è l'accordo Pagno con quel che è l'unico aspetta troppo aspetta troppo non ho visto male 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 l'altra radice che prima sempre fa non ho visto male non ho visto male non ho visto male no ma quando tu sbagli là perché arrivi su che salti e mandi avanti un casino davanti mandando avanti tanto davanti quando chiudi ormai sei già troppo largo quindi devi cercare di chiudere io mi appoggio la spalla al nocciolo addirittura cioè chiudila tutta se la chiudi lì ti diventa più giusta qua dopo perché se tu il culo ce l'hai dietro lasci scivolare giù davanti il davanti ti passa là dietro poi ci stai se invece salti su troppo lungo ti trovi il davanti fuori poi fermati piuttosto e poi la mandi giù piano piano è una persona che lasci corre dietro lasci venire giù dietro adesso tiene tanto si rispetto si vede vedi? bello chiudi più stretto ancora più stretto ancora perché poi qua ci stai dentro vedi? è pagato il peso due volte ma il pietro c'è andato nei borsi chiudi 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 via 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 chiudi no l'ha fatta lo stesso porco zio guarda te tiragli una sassata porco dio capi? però l'hai fatta buttagli un po' d'acqua che cacchio alla fine si è uscito il giudice timbra ma basta adesso al contrario basta così l'avete fatta 30 volte tu sì ma loro hanno già fatta 10 volte basta basta è l'ultima proprio al contrario via 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 al contrario al contrario via 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 non ce l'ha la motosega non ci passi dentro ma che tocchi i braccio non ci passi dentro i braccio prima ho toccato il braccio mi ha buttato sulla pianta bravo ora sei giusto chiodi e non fermarti via 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 vai 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 troppo 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 incattizze basta sei giusto ma storpo si è finito il rito al contrario volevo lanciarla ma fanculo mi ha scorto sei pizzarrito non è semplice vuoi venire giù di più mi ha scorto sì devi 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 Sì, c'è davanti. è uscito dal tronco ma perché? guarda la punta del sasso non guardare la pianta di là